Musica Musica E sulle note della musica popolare io davvero voglio ringraziare i tantissimi che hanno collaborato e partecipato attivamente alla realizzazione di questa puntata, gli abitanti di Maiori, facciamoci un applauso perché è davvero stata una puntata molto partecipata e intensa, io credo che abbiamo tutti insieme rappresentato bene questo vostro prezioso territorio e invito anche tutti da casa a visitare il nostro sito internet per rivedere questa puntata, per votare il gradimento al comune di Maiori e poi mi raccomando con Saporin Festa continua anche la prossima settimana, stessa ora, stessa emittente, continua il nostro viaggio nel gusto, nella tradizione campana. Grazie a tutti. Voda Maiori! Grazie a tutti.